C'è un affluxo di persone migranti e di minori, perché il governo d'extrême-droite è incapabile di regolare i problemi migratori su cui è stata elu. Se un ministro italiano avesse dato dell'incapace a un ministro francese, cosa succedeva? Questo è un deficiente assoluto, intanto perché non si deve permettere. E non è il primo. In campagna elettorale c'era un'altra ministra che diceva vigileremo sull'Italia. Ma cosa vi? Chi ti ha nominato vigile, urbano, poliziotto d'Europa? Chi si credono di essere questi qua? Sui migranti fanno molto peggio di quello che hanno fatto i nostri peggiori governi, quindi stessero zitti. Basta vedere quello che combinano a 20 miglia a clavier, eccetera, eccetera. E poi la devono piantare con sta spocchia. Questo è un governo sostenuto dalla minoranza dei francesi, perché la maggioranza ha votato per Mélenchon e per l'Alepain. E loro sono una delle cause per cui la destra francese è così forte, perché loro sono così deficienti. E poi forse qualcuno dovrebbe ricordargli che questo governo non è stato scelto dall'Alepain. Questo governo è stato scelto dagli elettori italiani, che secondo me hanno sbagliato, ma nessuno si deve permettere dall'estero di dare lezioni. Perché altrimenti tutti danno lezioni a tutti.